In questa mattina sono andato in palestra, ho pagato la signorina per i suoi servizi, per la sua prestazione, per il rinnovo della palestra chiaramente. Sono uscito, due minuti a piedi, c'è un negozio di sigarette elettroniche, mi sono fermato, vado per tirar fuori il portafoglio dalla borsa, dalla tasca laterale che era misteriosamente aperta e non c'era più il portafoglio. Sono trovato indietro, subito, due minuti di strada ragazzi, ho ripercoso tutta la palestra, il portafoglio, pensavo di essere uno scordato tra l'altro sopra il bancone e la palestra, no il portafoglio non c'è, rifaccio la strada due o tre volte, portafoglio inculato. Torno a casa, vi sto per fare una doccia, mi arriva un messaggio da parte di una russa, ho trovato tutto il documento, c'era bisogno magari di fare l'accento, anzi è stata molto gentile la signorina. Mi chiama questa ragazza, questa signorina e mi dice che ha trovato il portafoglio con i documenti, sono andato a prenderlo a piedi, l'aspetto, mi porta il portafoglio e il portafoglio era stato trovato 5 minuti praticamente dopo che io, che io non l'ho più trovato, alla stazione di Pisa, che è tipo un quarto d'ora a piedi da dove ero, gettato tipo così per terra e dentro c'era qualsiasi cosa, c'era tutto, tutto quanto. I soldi non c'erano, ovvero 10 dollari australiani e tipo 2 euro e 20, 3 euro e 50 i spiccioli, una roba del genere. E le carte erano tutte tirate fuori e messe in fondo nel portafoglio. Tra l'altro bella la scena, la tipa della sigaretta elettronica, entro sudato col borzone da palestra, faccio ciao, sono venuto a prendere, vi chiedevo se ce l'avevate la kiwi, la sigaretta elettronica, perché io ce l'avevo e l'ho lasciata sotto sella dello scooter e mi hanno rubato lo scooter. Si pensa a ridere, ah sì ce l'ho, c'è l'ultimo, ok vabbè la prendo quella, la prendo il portafoglio, non c'è il portafoglio, ma hanno rubato anche il portafoglio. Questa storia è un po' suspicio, sai delle prove? Mostra i messaggi dai. La persona più gentile di tutte è stata una sola, il ladro, che ha lasciato tutti i documenti bellini, bellini, tutti infilati. Cioè non sai, tipo tutte le carte qua infilate, l'ho tirato tutto fuori, tutto quanto, non ci ha lasciato proprio niente e le ha rimesse tutte qua dentro in fondo, vedi tutte infilate.